In questo video vedremo come gestire al meglio gli ordini. All'interno della pagina gestionale sarà possibile configurare gli orari di servizio e i relativi parametri. Dal menu si possono selezionare i giorni della settimana per cui si intende creare gli orari e l'intervallo degli stessi. Una volta cliccato su crea orari, il sistema crea tutti gli orari andando a prendere come parametro predefinito il numero di consegni, di articoli e di ritiri gestibili per ogni fascia oraria. E' inoltre possibile andare a personalizzare ogni fascia oraria con le proprie quantità limite. E' inoltre possibile creare orari in cui si definiscono separatamente il numero di articoli producibili, consegni effettuabili e ritiri. Infine è possibile mostrare al cliente una fascia oraria anziché un orario definito. Faccio Grazie per la visione!